Bella a tutti ragazzi, sono Mattia99, oggi recensiamo un'altra console, l'Xbox 360, molto carina, è nera, la ciabatta è accesa, è di colore nero, ora la accendiamo accendiamo la tv e prendiamo il controller, scusate ragazzi non si accende, non hanno batterie, aspettate che metto le batterie al nostro controller ok ragazzi, l'ho sistemato ok pagina inizia l'Xbox scusate ragazzi, si è scollegato ok ok marioana freehand ecco come vedete, io sono connesso Icebox Live e come vedete funziona vediamo è bellissima, andiamo su, giochi i miei giochi e giochi completi sono 30 questo è Call of Duty Classic l'ho acquistato l'ho acquistato da Dicebox Store e l'ho comprato completo e allora proviamo ad avviare un gioco ad esempio Call of Duty Classic e ok come vedete ragazzi, il gioco è partito senza modifica premiamo Start come vedete è in italiano e facciamo vabbè molto carino e ora torniamo nelle pagina inizia l'Xbox e si e usciamo ok ok ragazzi questo video è finito ci vediamo al prossimo video ciao ciao